Leggero aumento di reati commessi a Pescara in provincia nel 2021 rispetto allo scorso anno. I delitti sono passati da 8.281 a 8.906. Due gli omicidi come lo scorso anno e tre anche i tentati omicidi. Questa mattina nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno il questore di Pescara Luigi Liguori ha fatto il punto sull'attività svolta dalla Polizia di Stato. È stato un anno molto intenso, peraltro è coinciso con il mio primo anno di questore in questa provincia. Il numero delle persone identificate nella provincia di Pescara sono aumentate circa del 40%. Anche il numero degli arrestati abbiamo un aumento in maniera esponenziale, siamo arrivati a 150 arresti in flagranza rispetto a circa 120 dell'anno precedente. Un dato analitico che ha elaborato la divisione anticrimine diretta dal dottor Capasso evidenzia un leggerissimo aumento dei reati commessi nell'ambito della provincia. Siamo passati da 8.200 a circa 8.900 reati. Si tratta di reati di secondaria importanza, se di questo si può parlare, perché il reato non è mai secondario. Ma in ogni caso il paragone è fatto col 2020, che è un anno particolarissimo, in cui abbiamo avuto tre mesi di duro lockdown. Quindi i dati del 2020 sono decisamente falsati. Non è mancato un applauso agli agenti che hanno concluso nelle ultime ore il sequestro di otto quintali di fuochi pirotecnici pericolosi. È un'attività che è iniziata all'inizio del mese, è un'attività che è ancora in corso. Ringrazio anche la Procura della Repubblica che ci ha sostenuto in questa attività che è ancora in corso, quindi non possiamo dire troppo di questa attività. È che sequestrare a Pescara oltre otto quintali, non 80 kg sto parlando, di fuochi, è che abbiamo anche accertato che parte di questo materiale è stato già disperso, è stato già venduto. E si tratta di materiale classificato, di materiale che per la cui detenzione occorre la maggiorità è un'autorizzazione del questore, occorrerebbe per la pericolosità. Questo ci preoccupa moltissimo. È un invito ai cittadini che dovessero aver comprato inconsapevolmente materiale che è classificato poco più che materiale scenico o neanche botti di Natale, invece bisogna stare attenti perché si tratta di materiale molto pericoloso.